La Russia non ha e non ha mai avuto intenzione di attaccare i paesi nato, proteggiamo solo gli interessi del popolo russo. Il ministro della difesa di Mosca sottolinea che minacciare l'Occidente, sono le parole di Shoigu, non è un obiettivo geopolitico del Cremlino. Frasi pronunciate mentre l'esercito russo continua la sua lenta ma costante avanzata in Donbass. In Russia intanto è finito in manette il giornalista dell'edizione internazionale di Forbes, Sergei Mingasov per un post su Bucia, città ucraina, teatro di un massacro effettuato dall'esercito russo. L'accusa mossa contro Mingasov è di aver diffuso false notizie sulle forze armate di Mosca. Il reato è stato introdotto nel codice penale russo dopo l'avvio dell'intervento armato in Ucraina. A più di due anni dall'inizio della guerra, l'Unicef ha denunciato che il numero dei bambini uccisi negli ultimi mesi sta aumentando. Secondo i dati ufficiali delle Nazioni Unite, dal 24 febbraio del 2022 almeno 600 bambini sono stati uccisi a causa degli attacchi missilistici russi. Nei primi tre mesi del 2024 sono morti più di 25 bimbi, il più piccolo aveva appena due mesi. In Ucraina continuano a parlare solo le armi, nei paesi confinanti la tensione è molto alta. Anche la Svezia, entrata da poco nella Nato, teme un escalation del conflitto, tanto che ha deciso di schierare truppe e mezzi blindati nella vicina Lettonia.